è morbido amore? morbido morbidoso è la prima volta che passi da queste parti non perdere tempo iscriviti subito per non perdere nessuno dei nuovi video settimana fa vi ho fatto un video mostrando come si utilizza la cuffia diffusora e vi avete lasciato alcune domande sotto il video così ho raggruppato queste domande insieme ad alcune che vi fate molto spesso anche su instagram che se non mi seguite ancora mi trovate come ragazza appunto vanitosa e ho deciso di fare un video rispondendo a tutte queste domande ma per iniziare facciamo una breve introduzione la cuffia diffusora è perfetta per chi ha i capelli ricci per chi vuole attivare di più i ricci infatti punta molto sulla definizione dei capelli questo perché quando si indossa si utilizza la cuffia diffusora per asciugare i capelli i capelli rimangono immobili e quindi si asciugano con zero freeze e super definiti l'altra cosa bella della cuffia diffusora è che se non una cuffia rimane all'interno intrappolato tutto il calore che risce dal phon e quindi si asciuga uniformemente e molto più velocemente che solo con il phon e diffusore normale e dove si trova la cuffia diffusora? ecco la trovate su ragazzabonitosashop.com per il quale vi lascerò il link sia qua sotto nell'info box ma anche qua sopra nelle idee dell'informazione la cuffia è realizzata così in raso che è il materiale più delicato per i capelli ricci e ha questo braccio dal quale si va a inserire il phon per appunto asciugare i capelli se non avete ancora visto il video di come si utilizza la cuffia diffusora ve lo lascerò qua sopra nelle idee dell'informazione il video dove mostro tutta la procedura di come asciugare i capelli con la cuffia diffusora per avere il miglior risultato possibile ma adesso passiamo subito alla prima domanda che è qual è la temperatura ideale per utilizzare la cuffia diffusora? come dicevo il calore rimane intrappolato all'interno della cuffia motivo per il quale ci vuole una temperatura più bassa rispetto a quando si asciugano i capelli con il phon e diffusore cosa che è super super positivo perché utilizzerete appunto una temperatura più bassa quindi meno calore per asciugare i capelli più in fretta e riducendo i danni proprio al minimo purtroppo la temperatura ideale non ve la posso dire perché ci sono varie tipologie di phon e alcune anche nella temperatura più bassa è troppo caldo se hai uno di questi phon sinceramente ti consiglio di cercare qualcosa di meglio perché se anche nella temperatura più bassa ti bruciano i capelli non è un buon phon ecco io che utilizzo il Parlux da maggior parte delle volte utilizzo la temperatura media e velocità bassa e i capelli si asciugano così e come si inserisce la cuffia diffusore? siccome io sono un amante del volume vi ho detto che la cuffia punta più che altro a dare definizione mi piace inserire la cuffia a testa in giù perché in questo modo già riesco ad avere un po' più di volume quindi butto il cappellino avanti e inserisco la cuffia ecco sempre cercando di lasciare appunto il braccio della cuffia dalla parte in cui inserirete il phon perché ovviamente se io il phon ce l'ho collegato di qua ecco vedete che non è una cosa che funziona insomma questo perché è la cosa più bella di tutte secondo me di questa cuffia è che per asciugare i capelli hai le mani libere per fare alto per giocare col telefono per lavorare per mangiare per leggere insomma per fare quello che più ti piace io di solito ultimamente mi asciugo i capelli sempre truccandoli perché così riesco a ottimizzare ancora di più il mio tempo ma per non divagare troppo ecco così come si inserisce la cuffia ovviamente con i capelli bagnati subito dopo aver realizzato le styling poi ci sono alcuni trucchetti di muovere la testa durante la scegatura per sciogliere un po' i capelli ma tutto questo vi ho mostrato nel video precedente un'altra domanda molto frequente è giustamente questa cosa serve la cuffia da definizione o da volume tra volume e definizione quello che la cuffia dà di più è definizione e aiuta molto ad attivare il riccio infatti io quando mescio i capelli con la cuffia vedo che i capelli si accorsano ancora di più perché attiva moltissimo il riccio un punto anche super positivo per chi vuole attivare di più il riccio ecco e un trucchetto che ve ne ho già parlato ma vale la pena riprenderlo è che se volete attivare bene i ricci durante l'asciugatura quando togliete per controllare per muovere i capelli togliete la cuffia e attivate i ricci con le mani queste daranno una forma ancora più tonda e ancora più definita ai ricci che saranno appunto molto più attivati a fine asciugatura e forse la domanda principale di questo video è ma la cuffia è compatibile con il Dyson partendo dal fatto che la cuffia ha bisogno di un beccuccio per tenersi appunto al phone in questo modo la cosa non è fattibile con il Dyson perché appunto il Dyson non ha un beccuccio quindi no la cuffia non è compatibile con il Dyson ma neanche con il Diffon sempre per lo stesso motivo perché ha bisogno di la cuffia ha bisogno di un beccuccio per tenersi al phone e il Diffon è appunto tutt'uno quindi non si riesce a togliere il diffusore altre due domande erano in che materiale viene realizzata la cuffia e quanto tempo ci mette l'asciugatura per il materiale come vi dicevo è realizzata in raso così come le nostre cuffie da notte per quanto riguarda il tempo di asciugatura è decisamente più veloce che l'asciugatura normale con phone e diffusore tempo preciso proprio un po' difficile da dire anche perché abbiamo densità e anche lunghezze molto diverse diventa difficile ma comunque per farvi un'idea io che ci mettevo più o meno 20 minuti ad asciugare con il phone e diffusore con la cuffia e diffusore come vi dicevo anche prima ci metto circa 10 minuti ossia la metà del tempo è la cosa secondo me più fantastica con le mani proprio libere per fare qualsiasi altra cosa basta che ci sia una presa vicino appunto perché non hanno inventato almeno che io sappia non hanno inventato ancora il phone senza senza il cavo della presa quindi oh mio deus c'è una menina c'è una menina nel finale del mio video ciao venitose ciao tu usa la cuffia per dormire no cosa usi per dormire la treccia lei usa un cuscino super gigante che è appunto in raso per non creare troppi nodi vero amore lo prendi così lo facciamo vedere si vai eccolo qua questo è il suo cuscino ed è gigantesco con la federa anticrespo a forma di cuscino allora per lei abbiamo optato per questo modello gigante perché oltre a starci su super comoda con la testa rischia di scivolare e cadere dal letto adesso proprio informazioni aggiunte a questo video che non c'entra niente proprio è morbido amore morbido morbido morbidoso questo cuscino lo utilizzavo quando stavo ancora amamentando lo mettevo così tra le gambe e poi veniva lei sopra mi amore così mi poggia com'è comodo era fantastico proprio questo cuscino adesso le abbiamo dato un'altra funzione ecco questo è tutto e spero molto che vi sia piaciuto questo video se così fosse lasciatevi un bello like qui sotto e anche per me anche per te un bel like e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao